Tutto pronto, partiti i cavalli della quarta corsa Più veloce a partire è Thinking About You, la grigia con Tore sulla sinsella che si porta subito al comando ma c'è un ampio ventaglione tant'è che i cavalli dovranno percorrere la prima parte della racchetta per poi ricongiungersi con il resto del tracciato parte bene anche Crastu de l'Alguerra, parte bene Raddad che punta deciso verso la testa della corsa come consuetudine in quarta posizione si sistema Chains Breaker, poi all'esterno c'è San Morkesil a precedere Omer la volta buona, andiamo a pescare adesso il favorito Menuhin che è in mezzo al gruppo in quarta corsia gruppo come detto completato anche da Pueblo, da Medici Musician, da Total Perfection poi ancora troviamo Sellero in pancia al gruppo con Calapegno che percorre corsie più esterne mentre Lady Isi discosta rispetto agli avversari i cavalli che vanno a percorrere la prima parte della curva, Raddad adesso è in vantaggio nei confronti di Crastu de l'Alguerra in terza posizione si è sistemato appunto Chains Breaker a precedere anche Thinking About You, poi San Morkesil è ancora il favorito Menuhin che ha guadagnato qualche posizione trascinandosi all'esterno Calapegno all'interno c'è anche Medici Musician, Pueblo e tutto il resto degli altri partecipanti quando siamo a 450 dal palo Chains Breaker rompe gli induggi e dall'interno prova a passare su Crastu de l'Alguerra, dall'esterno San Morkesil ma soprattutto Menuhin stanno producendo lo sforzo ancora più all'esterno c'è Transporter accompagnato anche da Calapegno quando siamo a 300 dal palo Chains Breaker ha respinto per ora tutti gli attacchi ma quello più vehemente all'esterno è da parte di Transporter che si invola dall'esterno all'interno c'è anche Omer con San Morkesil, Omer San Morkesil e soprattutto Transporter che rientro, vince e anche bene collezionando la vittoria numero 7 in carriera a 7 anni ma soprattutto a rientro da giugno, quasi un anno che non correva vince Transporter con Mario San Nensella, il training è quello di Eros Ostanel colori Flavio Ostanel, 18 al primo posto, poi vediamo a secondo dovrebbe essere San Morkesil ottima la prima italiana per Omer, un Seed Stars ex ostacolista in Inghilterra 18-12-4 e l'ordine d'arrivo ufficioso numerico probabile Transporter aveva una quota in doppia cifra, 10 è tutto dalla quarta corsa Grazie 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 Grazie